Tu ti tendo la mano e prendi la mano e dammi la mano e prendi la mano e dammi la mano Il padre e il bambino lo tiene per mano, c'è tutto il destino e non parlo di mano Le mani, le mani che sanno parlare, che sanno guarire e che sanno pregare Le mani legate, le mani ferite, le mani, le mani pulite Mani legate, mani legate, mani ferite, mani pulite, mani legate Saluti rubiani Sanno compire, che sanno stranare, le mani spietate che danno la fine Le mani, le mani assassine Mani legate, mani ferite, mani pulite Apriamo le mani, le mani più amare, che stringono ancora nei trenta denari Mettiamo le mani, mettiamo le mani, le mani, signore Più sono sincera e più tanto calore E le mani, le mani che sanno di mare, che sanno di terra e che sanno di mare Battiamo le mani per farci sentire più forte Sanno di mare, che sanno di mare Mani legate, sanno di mare Sanno di mare, che sanno di mare Pari, Sassie, pari della, pari della, Mane, con il mese, bread, la, Pari della, pari della, Mari della, Prova. Salve a tutti, benvenuti alla quarta edizione di Trame, il festival dei libri sulle mafie. Si svolge adesso l'incontro, giornalismo di frontiere in Calabria, cronisti a confronto. Alessandro Banfi, Francesco D'Aiala, Paolo Polichieni, Luciano Regolo e Nino Amadore, ne parlano con Gaetano Savatteri. Ricordiamo che l'evento precedentemente fissato per le 20.30 a Palazzo Nicotera è stato spostato in Piazzetta San Domenico. Vi ricordiamo che Trame 4 si realizza grazie al contributo volontario di molte persone. La campagna di raccolta fondi Io Sostengo Trame è ancora aperta ed è possibile donare direttamente al book corner di ogni palco oppure collegandosi al sito www.tramefestival.it. Vi informiamo inoltre che la partecipazione al seguente incontro, grazie alla collaborazione tra Fondazione Trame ed Ordine dei giornalisti della Calabria, potrà essere utilizzata dai giornalisti calabresi per acquisire crediti nell'ambito della formazione professionale continua, da quest'anno obbligatoria anche per gli iscritti all'Ordine dei giornalisti. È possibile firmare la presenza presso i banchetti di ogni palco. Grazie per essere qui con noi e buona serata. Dove sei Matteo? Un indizio al giorno alla ricerca di Matteo Messina Denaro. E oggi Matteo Messina Denaro lo troviamo a leggere i giornali. Dicono infatti che sia un avido lettore dei giornali, ovviamente degli articoli che lo riguardano. Non si arrabbia mai Matteo Messina Denaro, tranne quando toccano l'amata sorella Patrizia, oggi in carcere. Per il resto legge gli articoli con serena rassegnazione. Sono una vittima della cattiva giustizia, scrive in un pizzino, e tira in ballo la solita lobby dei giornalisti comunisti. A Matteo Messina Denaro piacciono molto le foto che ci sono sui giornali e sui siti, quelle dove il suo volto è ricostruito al computer, dato che è il latitante dal 1993, e che la sua ultima foto è del 1991. L'ultima foto, tra l'altro, che è stata resa pubblica a febbraio, gli è piaciuta davvero tanto. E più stempiato, ovvio, come Ken, Ken di Barbie, ce lo forniscono in due modelli, con occhiali da sole e senza occhiali da sole. E lo sapete perché è piaciuta tanto? Nel bar di Castelvetrano non si parla d'altro. Gli è piaciuta perché non gli somiglia per niente. Ci vediamo stasera con tutte le storie di Matteo Messina Denaro. Grazie a De Geromo che è un giornalista che segue le tracce di Matteo Messina Denaro da anni e questa sera ci racconterà tutti i misteri sul super latitante più famoso forse d'Europa. Qui parliamo di criminalità, parliamo di giornalismo, lo facciamo con uno dei giornalisti importanti, Paolo Pollichieni, giornalista di Vaglia che ha raccontato la Calabria, adesso direttore del Corriere della Calabria, Francesco D'Ajara che è un giornalista che si è occupato per il Tg3 a lungo di eventi culturali adesso e al GR, Alessandro Banfi che è direttore del canale All News di Mediaset e Tgcom24, Luciano Arregolo che è direttore dell'Ore della Calabria al centro di una vicenda che ha fatto cadere un sottosegretario, anzi lo ha fatto nominare e poi rinunciare e soprattutto a lui proprio ieri è stata firmata l'accordo per la cassa integrazione dei colleghi dell'Ore della Calabria. Ci piace fare un applauso perché senza retorica ma quando i giornali chiudono, quando i colleghi vanno in cassa integrazione, quando una voce è a rischio è una perdita per tutti. E poi Nino Amatore che per il sole 24 ore racconta il sud da tanti anni, la Sicilia e la Calabria ma non solo. E allora a questo punto voglio partire con Paolo, voglio partire con Paolo perché voglio raccontare una cosa che successe nella conferenza stampa dell'anno scorso di Trame, quando probabilmente io esprimendomi male, dissi purtroppo la Calabria ha una cattiva stampa, nel senso ha una cattiva fama. I colleghi mi dicono come è una cattiva stampa, anzi c'è una buona stampa. Io la domanda la faccio a te, la Calabria ha una buona stampa come immagine e anche come sua capacità interna di raccontarla Paolo? Io invece lo posso dire perché sto qui, la Calabria ha una cattiva stampa in entrambi i casi. Ha una cattiva stampa perché non riesce a far emergere quello che pure c'è di buono a queste latitudini, ma ha una cattiva stampa anche perché ha cattivi giornalisti. La nostra categoria ha le sue responsabilità, adesso negarcelo qui significherebbe perdere tempo. Il che non fa che aumentare il pregio dei tanti ottimi giornalisti che qui ci sono, però rischiano di fare la fine che fanno i tanti bravi medici calabresi. Cioè il dramma dell'emigrazione sanitaria dei calabresi non è solo che per curarsi devono andare in Lombardia o in Francia, ma che quando arrivano in quelle strutture in otto casi su dieci trovano medici calabresi, rigettati fuori, buttati via dal sistema sanitario calabresi, accolti a braccia aperte. Possiamo dire la stessa cosa del sistema dell'università. Nella questione del giornalismo calabresi una riflessione seria va fatta, va fatta perché spesso i giornalisti calabresi se non hanno un padrone se lo vanno a cercare, perché spesso il padrone delle testate giornalistiche calabresi può puntare sul fatto che se uno dice no, troverà altri cinque che sono disposti a sostituirlo e a dire sì, perché non ci sono regole certe, perché spesso i giornalisti calabresi sono essi stessi portatori di un grosso conflitto di interessi. Io non penso che si può fare il Presidente dell'Ordine e si può poi dirigere una testata privata e si può ancora dirigere una testata pubblica. Questo non si può fare. In Calabria si fa. E allora è chiaro che quando faremo questo diventiamo antipatici, brutti, sporchi, cattivi e soprattutto, che è la disavventura che capita a molti bravi giornalisti calabresi, isolati. Ma isolati dal loro stesso ambiente. Dal loro stesso ambiente. Cioè questa è la cosa grave. Che quando ti rivolgi per avere protezione, anche a costo di autodenunciarti, non hai una risposta. E allora tutto questo è noto a chi non ha interesse a un buon giornalismo. Poi possiamo discutere se fanno bene o fanno male alcuni a piegarsi e qualsiasi. Abbiamo un ottimo sindacato, questo sì. Ma le ragioni del sindacato non sono le ragioni dell'Ordine. Non lo sono per nulla. Noi però, questo è un argomento che abbiamo rimosso. Così come parimenti. Non è vero, non è vero, che in Calabria non è possibile fare un certo tipo di giornalismo e avere anche la possibilità di camminare applicando i contratti. Io vivo in una realtà molto piccola, applichiamo i contratti. Allora un po' sulla, perché non vorrei, vuol dire, è importante questa vicenda dei contratti e dei diritti dei giornalisti. Esatto, è la prima. E proprio a questo punto non approfitto per parlarne con Luciano. Gian appunto è stato protagonista, c'è stata come dire una, chiamiamola pressione, intimidazione. Adesso le intimidazioni, come sapete, sui giornalisti non sono più soltanto le gomme della macchina tagliata. C'è, come dire, la querela minacciata, l'annuncio di querela, la citazione civile per danni ingenti e giornalisti che non hanno coperture di testate si devono vendere alle case o comunque rischiano dell'oro. Ecco, il tuo giornale, la tua storia è diventata una storia molto simbolica di quello che è il giornalismo in Calabria e forse anche nel resto d'Italia, ma soprattutto nel sud. E qualcuno però ha detto, sì, vabbè, però, quella è stata una cosa, perché tanto quello è un giornale che sta andando male, l'hanno buttata in cacciare. E questa osservazione è stata fatta spesso da molti colleghi nostri giornalisti. Hai trovato tu solidarietà in questo? Beh, dipende dai casi. Generalizziamo, naturalmente. Inoltre, sicuramente sì. Infatti, diciamo, poi, salvo che poi si sospetta chissà quali alleanze, semplicemente perché chi lavora applicando, diciamo, dei principi che dovrebbero essere normali. Per me è stata una grandissima sorpresa vedere e riscontrare questa realtà in Calabria. Io sono nato qui e, diciamo, sono andato via che era appena 18enne. Quindi, dopo quasi un trentennio ho trascorso a lavorare altrove, prevalentemente a Milano, ma anche a Torino e in altre città, ho trovato questa situazione. Io vorrei far notare questo. Quello che dice Saviano di quella telefonata lì, ossia, è una summa di tutte le subculture mafiose. È la verità. Mi riferisco specialmente a questa frase, diciamo, idiomatica. La notte tra il 18 e il 19 febbraio, l'ho ricapito, a questo punto, diciamo che avevamo un servizio di apertura sul quotidiano all'ora della Calabria che riguardava l'apertura di un'indagine a carico del figlio del senatore Gentile di nome Andrea Gentile per abuso d'ufficio o falso ideologico o altri reati. Era un abiso di garanzia, dunque, diciamo, questo non significa che la persona fosse colpevole. Però tuttavia erano i giorni in cui a Roma si stava discutendo dei sottosegretari da nominare. Io avevo appena finito il mio lavoro, cioè tutta la redazione, stavo andando via con un collega, diciamo, Alizi, un mio collega che segue le pagine sportive e invece l'editore mi dice dai Luciano andiamo a mangiare una pizza insieme e così e per puro caso mi sono trovato in macchina con Alfredo Citrigno e lui mi dice guarda che io sto ricevendo tutto il giorno delle telefonate perché De Rosa Gentile stesso mi ha chiamato anche Andrea vogliono che cambiamo la notizia e ho detto non se ne parla neppure e dico ma mi stanno asfisciando e dico chiamalo, chiamalo adesso. Lui l'ha chiamato e ho registrato c'era il viva voce e ho registrato queste telefonate. Io non credevo alle mie orecchie perché diciamo tra le altre cose in questa tra le varie amenità ricordate il cinghiale ferito eccetera ma dice specialmente queste due frasi che sono emblematiche. La prima dice cioè spiegare a sucazze regulu che cu fa malattia fa malapura iddu e alu giornala no? Questa è è la prima cosa. E l'altra dice e poi per chi continua penucchiurite culu cioè la libertà di stampa il padre scrivere una notizia è un pluritanale no? Questa è la mentalità diciamo classica. Cosa è successo? Che prima dell'Ora Gate fermevano diciamo ampie trattative perché il De Rose stampatore che poi è il protagonista di questa telefonata diciamo quasi d'intrasse in società comunque insomma non aveva mai rivendicato questo forte credito per la stampa. Faccio presente che le tariffe applicate dal signor De Rose eccedono di circa 25 mila euro bensili le tariffe di mercato normale di cui mi sono informato personalmente colpito dalla pessima qualità di stampa cioè nel senso che io vedevo delle pagine tigrate colori diciamo così quindi ho applicato dei normali criteri ritengo diciamo adeguati al lavoro che uno fa esatto che uno fa e colpito da questo ho scoperto questa vicenda così come ho avuto poi in modo di scoprire allora per tutti i vari fallimenti che ha avuto perché questa società poi si è trasformata tutte cose che diciamo a me non erano state dette che ho acquisito in questa diciamo mesi di calvario scopro che per esempio curiosamente De Rose non solo non ha mai invocato i suoi cospicui crediti ma diciamo continuava anche di fallimento come principale creditore fallimentare degli altri fallimenti che hanno coinvolto questa famiglia diciamo proprietaria del giornale non diciamo è andato avanti a stampare sempre con le stesse realtà e quindi diciamo a seguito di questa vicenda dell'Oraghetti il giorno dopo invece il signor De Rose manda una lettera significativa che io pubblicai sul giornale appunto per rendere dotta la comunità di quello che stava succedendo in cui diceva o mi date subito questi soldi o io praticamente provoco il vostro fallimento quindi cambia completamente lo scenario dopodiché subentra allora dopo che io pubblico questo faccio capire che si configura una sorta di estorsione lui rimane quiescente quindi noi continuiamo a pubblicare il giornale con altre campagne di denuncia di inchieste spesse che riguardavano anche gli stessi protagonisti dell'Oraghetti a un certo punto subentra questa liquidazione allora cosa succede che quelle persone che vogliono ridurre questa situazione infatti diciamo la proprietà non poteva ricapitalizzare perché diciamo erano stati sequestrati dei beni alla famiglia ma è una sciocchezza una frescaccia diciamo perché prima non c'era questo problema e tra l'altro questa famiglia era stata capace di chiedere l'applicazione del 60% della solidarietà quando si poteva ricapitalizzare allora l'avrebbe fatto e non chiedeva tu dici da questo punto di vista che la liquidazione è stata accelerata dalla vicenda accelerata e ne stiamo pagando anche le conseguenze perché se io dicessi anche l'altro giorno lo stesso anche all'assessorato regionale quindi Luciano scusa per non entrare anche dico quella che è sembrata in quel momento una vittoria della stampa perché poi alla fine è gentile non è diventato sottosegretario però non è diventato sottosegretario alla lunga è diventata una sconfitta non è una sconfitta perché io penso una cosa allora faccio notare questo che se non fosse stato appunto per il Corriere della Calabria che ha avuto diciamo il coraggio di pubblicare i tabulati telefonici di quella notte allora si vede diciamo il senatore Tonino Gentile il quale ha gridato all'estranità totale del fatto eccetera e il quale non ha mai preso pubblicamente le distanze da De Rose e tutt'altro perché la procura di Catanzaro ha aperto anche un'inchiesta per l'assunzione della figlia e le consulenze diciamo offerte a suo figlio diciamo a fronte di questo tutti i giornali locali hanno titolato ah gentile è stato dichiarato il figlio diciamo è strano è la vicenda dell'Oragate ora a parte che c'era un sms no del diciamo del figlio di Gentile il quale scriveva all'editore grazie per quello che farai e quello che farai sarebbe stato farmi togliere la notizia poi c'era il messaggio di De Rose anche a Citrigno Junior il quale diceva ti stanno chiamando ma non stai rispondendo ed era vero cioè lui era al corrente in tempo reale anche se l'editore rispondeva o non rispondeva poi ci sono i tabulati da cui si vede una rapsodia di telefonate sempre a ridosso di cui una un minuto dopo diciamo la telefonata del cinghiale di Gentile e anche la mattina dopo allora io dico diciamo moralmente lasciamo per io non mi permetto di sindacare i verdetti diciamo della magistratura perché non sono garantista ma credo nel diritto in una società di diritto e credo che diffondere sfiducia nelle istituzioni non giovi in ogni caso però al di là delle responsabilità penali esistono le responsabilità etiche quindi lo trovo veramente vergognoso di aver dovuto subire noi giornalisti dell'ora il giorno anche che dei colleghi abbiano fatto la cassa risonanza dichiarazioni tipo quelle di Schifani che loggiava diciamo e ripingeva il senatore Gentile come una vittima di trappole mediatiche ma chi le ha create queste trappole chi ha fatto il complotto cioè chi ha fatto fare quella telefonata se lui riteneva che diciamo per assurdo se lui ha raccontato le favole di Capuccetto Rosso al telefono quella sera diciamo denunci De Rose prenda le distanze invece De Rose no viene ricandidato anche tra diciamo i presidenti della Fincala ma questo non è diritto Alessandro insomma tu sei direttore di un canale all news nazionale quindi abbiamo capito qual è la difficoltà di fare questo mestiere qua chi ci vive poi una cosa è l'inviato viene racconta e se ne va Paolo ha parlato di cattiva stampa nel senso io continuo a dire che è una cattiva immagine la Calabria ma soprattutto come diceva alcuno la Calabria è un buco nero informativo per te che ogni giorno hai l'agenda dalle Alpi alle Piramidi e dici devo raccontare delle cose queste sono le notizie in questi giorni hai fatto speciali sugli aree da Gambierasio ma sulla Calabria c'è un buco nero mentre se ti credo che non abbiamo un rispondente dalla Calabria no non ce l'abbiamo e devo dire sì sicuramente è un buco nero però dato che tu questa domanda me l'avevi fatto invitandomi devo dire che poi ci ho riflettuto sono andato a vedere le volte in cui nell'ultimo anno perché io sono direttore di Tgcom 24 da un anno quindi 28 edizioni di telegiornale al giorno 39 edizioni di quelle che noi chiamiamo breaking news una macchina che non si ferma mai domenica agosto notte giorno 19 ore al giorno di diretta praticamente quindi voglio dire spazio per quello che le notizie però diamole le notizie fondamentali no devo dire abbiamo la fortuna non dobbiamo dare gossip non dobbiamo dare no diamo giustamente un po' di sport anche la cronaca per carità però diamo soprattutto le notizie serie non ci possiamo permettere addirittura nella televisione italiana di dare notizie di esteri che ormai sembra una cosa proibita detto questo della Calabria quando abbiamo parlato sono andato a rivedermelo e ho scoperto che ha ragione il Papa cioè io non voglio pensare rovesciare i termini della questione proviamo a vedere l'Italia dalla Calabria si capisce di più perché noi ci occupiamo della Calabria ci siamo occupati della Calabria parlando della Salerno Reggio Calabria che è un incubo tutte le estati tutti i giorni tutte le volte che c'è uno spostamento di massa anche le stupidaggini più stupidaggini a un certo punto si dice che nella Salerno Reggio Calabria ci sono i cantieri quindi c'è un problema visto dalla Calabria c'è il problema infrastrutture di questo paese poi parliamo della Calabria quando parliamo di Rosarno impazziamo per Rosarno per due mesi parliamo di Rosarno poi non ne parliamo più ma sappiamo che c'è sempre e per me Rosarno ve lo dico è la grande questione irrisolta di questo paese del lavoro e dell'ingresso degli extracomunitari io sono personalmente convinto che la legge Bossifini non è una legge sull'immigrazione è una legge sul lavoro perché noi abbiamo un sistema del lavoro qui c'è il collega del Sole 24 Ore che lo sa meglio di me abbiamo un sistema del lavoro reale pratico per cui ci sono i garantiti gli italiani o anche quelli col permesso di soggiorno voglio sperare che sono lavoratori con i contratti poi quelli che riescono a diventare dipendenti poi c'è precariato d'accordo ma poi c'abbiamo gli schiavi gli schiavi sono i clandestini perché quelli puoi pagarli mi diceva oggi un titolare di Agrometi proprio nella zona di Rosarno mi diceva che lui se prende un italiano in regola gli costa 45 euro al giorno più le tasse se piglia un clandestino gli costa 30 euro al giorno senza tasse quando va bene questa è la legge che non è una legge sull'immigrazione è una legge sul lavoro nero allora uno pensa e vabbè perché siamo nel caso limite invece io rovescerei i termini uno capisce Roma capisce il centro di Roma il quartiere dove abitiamo io e te a Roma capisce l'hotel Cicerone e la signora Meggera che gestisce gli schiavi dell'hotel Cicerone tutto formalmente a posto 250 euro a camera proprietà società tutto a posto e c'è i racchetti degli schiavi anche lì si capiscono meglio però da qua è più estremizzato è più estremizzato è più estremizzato prendiamo il turismo io sono rimasto non vengo spesso in Calabria ma sono stato invitato dal direttore di panorama che ha fatto il panorama d'Italia ha fatto il tour lì ed è stato a Reggio Calabria abbiamo cominciato da lì questo tour io vado ogni tanto la mia televisione segue ogni tanto queste cose e siamo stati siamo stati lì ovviamente ai bronzi di Riace la Calabria ho visto noi ne abbiamo parlato bronzi di Riace e lì cosa sono i bronzi di Riace sono proprio un simbolo da un certo punto di vista bellissimo di un'Italia che ha una potenzialità enorme poi basta vedere qui io personalmente come tutti i giornalisti sono cialtrone ignorante mi sono aggirato qui e dico caspita ma quanto è bella l'Italia cioè ma posti così una cosa così come fate voi a parte i contenuti che sono diciamo meravigliosi ma poi ti danno questi ragazzi il volontariato hai l'impressione che la benzina c'è tu vedi bronzi di Riace a Reggio Calabria e dici caspita ma qui è una roba che se chiudo gli occhi penso un attimo ce l'hanno gli americani o ce l'hanno i tedeschi o ce l'hanno non parliamo degli inglesi che ti fanno diventare un museo un incrociatore della seconda guerra mondiale e paghiamo pure 26 sterline a mezz'ora di visita dico è una roba pazzesca allora mi è venuta in mente questa immagine perché ha ragione Papa Francesco avremmo bisogno noi giornalisti e ne abbiamo visto che poi i giornalisti quando parlano fra di loro si fanno tafazzi si battono sui coglioni però davvero io ho questa idea avremmo bisogno di prendere sul serio questa idea partire dalla periferia in questo senso la Calabria è una periferia ma è una periferia che dovremmo amare di più dovremmo smetterla noi di pensare in termini milanocentrici romacentrici perché non capiamo il paese quando lo vediamo da qua lo capiamo di più e questa è la cosa che mi dico a me stesso innanzitutto che mi piacerebbe cercare di rovesciare i termini di questa questione e riportarmi qui allora se penso dicevo prima il problema dell'immigrazione qua secondo me si sente di più ma il problema dell'agricoltura si sente di più perfino secondo me il problema del rapporto con la comunità europea da un certo punto di vista ad esempio nel tema agricoltura turismo formazione dove sono stati fatti danni e pasticci e dove non si è andato avanti è come se la benzina ci sia ma il motore non si riesce a centrare a Francesco si può anche applaudire se siete d'accordo o anche se siete in disaccordo Francesco abbiamo parlato di Brunzi e Riace tu ti sei occupato e continui a occuparti di fatti culturali il fatto culturale vale se è un evento in una grande città ma tu che hai girato il sud poi tu sei siciliano quindi lo conosci bene qual è la difficoltà quella che diceva Alessandro sempre visto dal punto di vista generalista qual è il problema che non ti ci mandano in Calabria perché costa troppo no 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 perché c'è anche il suo problema nelle redazioni nelle redazioni sì alla Rai il problema che costa troppo diciamo che è un problema ma non fate tagli pure a voi c'è di 50 milioni esatto voglio dire noi siamo una specie di ammortizzatore sociale nel senso che si parla e si va a vedere cose che non esistono e non si va a vedere cose che invece sono enormi nel mio caso personale io sono uno che per parlare per parlare del piccolo ne ho fatto una battaglia per cui non so tanti anni fa ho scoperto che c'era un gruppo di librai a Mantova che facevano un piccolo festival dove invitavano gli autori a parlare ho cominciato a seguirlo dall'inizio tutti mi dicevano beh Mantova c'è una cosa che vai a palazzo te ma che vai a parlare dei libri e soprattutto tutti mi hanno sempre detto che i libri in televisione non tiravano quando ho cominciato a intervistare gli autori e questi autori ogni tanto erano persone che hanno vinto il premio Nobel allora ho i direttori che vedevo una scintilla nell'occhio del direttore e dice a questo lo conosco per cui il problema è anche che tu hai degli interlocutori che ovviamente la categoria diceva appunto la categoria ignoranti no? peggio perché sono distruttori di tutto quello che uno può tirar fuori per cui piano piano invece secondo me continua le cose che si possono tirare fuori cioè per esempio questa storia di di Mantova è emblematica di una cosa che ha funzionato ma Mantova parliamo di Mantova Mantova non è la Reggio Calabria non è la Mezza ma è un posto piccolo voglio dire è più vicino all'Europa sì ma no perché poi è difficilissimo da raggiungere molto più della Mezza Terme per esempio un'altra cosa e questo lo porto a esempio che io ho seguito da quando è stata inaugurata il 12 ottobre del 2007 ed è diventato il quarto sito più visitato in Italia è la Regia della Venaria che è un posto fuori Torino che era un rudere dove è stata un'abilissima gestione dei fondi europei 220 milioni di euro non parliamo di Picci gestita in anni in maniera incredibile è un miracolo ed è diventata in pochissimo tempo il quarto sito più visitato in Italia con i bronzi di Riace non ci si riesce i bronzi di Riace non ci si riesce allora il problema torniamo sempre lì lì è un problema di noi che non riusciamo a parlarne perché non è vero che non è finito sui giornali che i bronzi di Riace sono lì abbandonati lo sanno tutti il problema è che non parte l'iniziativa e non partendo l'iniziativa non c'è nessuna ragione di andarci se non a ripetere per sempre nello stesso modo il fatto che i bronzi di Riace stanno lì addirittura per un periodo erano alla regione alla provincia messi per lungo io infatti feci un pezzo dicendo i bronzi di Riace appunto giacenti che diventava anche emblematico di qualcosa che era appunto morto adesso credo stiano in piedi l'hanno rimesso in piedi almeno quello immagino però appunto poi non c'è non c'è e soprattutto nel sud è molto difficile l'altro giorno ero a Palermo per la prima volta sono andato a vedere Parazzo Branciforti che tra l'altro è l'ultimo lavoro di restauro fatto da Gau Lenti prima di morire ed è una cosa di una bellezza senza limiti il tempo che ci sono stato io dentro due ore insieme a me e all'amico che era con me saranno entrate sei persone non lo conosce nessuno e allora lì anche abbiamo fatto una cosa però non non diventa molto complicato il rapporto anche con le istituzioni che spendono magari un sacco di soldi per fare queste cose ma poi non c'è comunicazione come se questa cosa fosse legata appunto all'evento di inaugurazione e poi morisse lì e invece no Nino tu sei del sud 24 ore vivi molto a cavallo tra la Calabria da Sicilia l'ha seguito insomma anche i tuoi libri che ora presenteremo tra poco raccontano di questa cosa Paolo diceva come diciamo sempre trappertutto ci sono cattivi giornalisti però in Calabria ci sono anche giornalisti eccezionali noi sappiamo che in Calabria come in Sicilia tutti i posti dove ci sono delle grandi storie da raccontare selezionano il peggio e il meglio di sé come dire la grande scuola come dire dei giornalisti degli anni 70-80 di Palermo i giornalisti di oggi in Calabria che sulla loro pelle raccontano le cose qual è il problema che alla fine oggi dalla Calabria i più coraggiosi ma questo può raggiungere anche a Paolo e a Luciano i più coraggiosi e i più bravi non possono occuparsi dei branzi di riace perché devono occuparsi dell'operazione Perseo dell'operazione Chimera delle intercettazioni dei tabulati cioè alla fine diventa l'unica cosa su quale si misura il grande giornalista perché la materia prima è quella giudiziaria fondamentalmente guarda allora ci sono diverse questioni la prima tutte no ne dico tre va bene tanto per essere veloci la prima è che in Calabria i colleghi e sono parecchi sono anche quelli meno noti meno conosciuti alcuni lavorano con Paolo io riconosco hanno lavorato anche con me hanno dovuto sono stati costretti a supplire perché qui il problema è un problema di classe dirigente in Calabria c'è un problema trasversale orizzontale di classe dirigente la regione è il risultato di una classe dirigente ottusa di una classe dirigente che continua a insistere a guardare all'indietro come se il tempo non fosse mutato come se non fosse accaduto nulla la vicenda che racconta Luciano è esemplare rappresenta quello che in questa regione la classe dirigente pensa dei giornalisti non solo dei giornalisti anche di tanti altri di altri movimenti cioè che cosa pensa della libertà che è un problema molto serio e quindi i colleghi nei comuni la Calabria ha un territorio diciamo molto molto particolare quindi in piccoli comuni si ritrovano a supplire a far la parte che un tempo veniva fatta dall'opposizione dall'impegno civile dal grande impegno civile che non è mancato in questa regione c'è stato e dunque negli ultimi anni forse è mutato la seconda questione è quella che riguarda l'agenda informativa del nostro paese generalmente si pensa che il sud sia importante quando butta notizie che riguardano l'andrangheta la mafia ma generalmente si pensa questo ma non si pensa non si fa un ragionamento su quello che accade cioè fa notizia c'è la grande operazione ma per esempio negli ultimi anni negli ultimi vent'anni nessuno si è accorto che l'andrangheta che ha una grande capacità politica consolidata nel territorio e strutturata a partire dagli anni settanta quando fa la scelta di entrare in politica l'andrangheta ha creato un modello amministrativo un modello di organizzazione politica e lo ha clonato lo ha portato altrove lo ha portato in Lombardia in Piemonte in Emilia in Veneto quello che noi ci siamo accorti della penetrazione dell'andrangheta negli ultimi anni ma nel frattempo loro si erano già organizzati noi abbiamo tante piccole realtà sparse con quel modello di organizzazione e con quel sistema molti colleghi calabresi hanno provato a raccontarle queste cose o hanno provato a dirle a farle capire a chi pensa che qui ci sia un monolite e il monolite è il buco nero del nostro paese la Calabria non è il buco nero la terza questione e qui chiudo è la difficoltà noi quando usciva l'edizione locale del solo 24 ore che era a sud io mi occupavo mi sono occupato della Calabria e ho cominciato a occuparmene perché nessuno se ne voleva occupare e io sono stato entusiasta di occuparmene perché ho studiato con i calabresi e quindi mi sono formato con i calabresi e c'è una difficoltà primo qui c'è la difficoltà a volte di riconoscere il brutto dal bello cioè tu incontri una persona che piange diciamo il tragediatore siciliano è un apprendista rispetto a questa tipologia di persone che ti dice che sarebbe disposto a morire per la giustizia o per il bene e poi te lo ritrovi in cose assurde pazzesche che è una difficoltà la difficoltà di leggere il territorio che è una cosa molto seria per il nostro per il nostro e poi è la difficoltà cioè di far capire al mondo a quello che c'è attorno che qui ci sono cose buone e sono tante perché qui esistono diciamo diffuse nel territorio e non emergono imprese che fanno internazionalizzazione imprese che fanno ricerca ci sono start up ci sono giovani che si organizzano ci sono situazioni e se volessimo diciamo un po' esagerare Gaetano e dire che l'uomo che morde il cane qui l'uomo morde il cane tutti i giorni perché in una realtà come la Calabria difficile per certi versi ancora diciamo poco moderna esistono delle avanguardie di modernità che noi che viviamo fuori non riusciamo a vedere e quando ci vengono raccontate non le accettiamo pensando di minimizzarle per cui quello che accade sopra il rubicone è sempre una cosa rilevante quello che accade sotto il rubicone anzi sotto Napoli è sempre una cosa da guardare con attenzione quindi ovviamente che cosa ne viene fuori che i calabresi sono sempre brutti sporchi e cattivi come spesso lo sono i siciliani e lo sono i campani e così via mentre al nord e abbiamo visto che non è così è tutto bello ma non è la verità Paolo Paolo la cosa ti passo il microfono insomma ci sono una serie di sollecitazioni che sono venute però mi colpisce che poi due direttori di giornali che hanno radici qua vivono con un piede fuori e un piede dentro spesso alla calabria per motivi di lavoro quindi alla fine noi abbiamo come si diceva un tempo il più grande quotidiano si stampa a Messina il più grande quotidiano che la Messina che la Messina va beh diciamo ha la sua testa a Messina i nuovi giornali dove dire spesso hanno direttori hanno avuto in passato direttori che venivano addirittura in alcuni casi assolutamente strani a questa tradizione quindi non sarà un buco nero come dice io penso che Luciano ha fatto bene raccontare la sua storia perché non è la sua storia è la storia emblematica se uno vuole capire quali sono le storture dell'informazione in Calabria quella che ha raccontato Luciano è e noi abbiamo avuto esitazioni noi nella nella prassi della peggiore della calabritudine noi dovevamo essere a ridacchiare perché eravamo gli epurati quelli che siano stati buttati fuori da Calabria ora io ho ancora qui il mio ultimo numero dove io scrissi i motivi per cui venivo buttato noi abbiamo avuto un attimo di esitazione nel dare la nostra solidarietà vera non pelosa a Luciano perché Luciano in quel momento sta facendo una battaglia di dignità che era la battaglia di dignità della categoria non d'accordo lui mi ha chiamato quando gli hanno chiuso il sito gli ho detto guarda Luciano il sito è qui è tuo purtroppo non posso chiamare un altro modo perché c'è una registrazione al tribunale ma non perché io volessi rinunciare o perché io fossi sorpreso io non ero per nulla sorpreso di quello che è successo lì lì non poteva che finire in quel modo perché quando un giornale si chiude perché fa uno scoop di questa follia no io sono stato buttato fuori perché per primo prima ne abbiamo parlato con Gennari che è stato il mio salvatore il giudice Gennari poi con la sua indagine perché per primo documentai l'incontro tra Paolo Martino ambasciatore dell'Andranche da Milano e Peppe Scopelliti sindaco di Reggio Calabria bene genere nei giornali normalmente non dico una medaglia magari ti danno un bene una promozione invece lì ti giochi una carriera allora su questo però dobbiamo stare attenti perché noi poi abbiamo bisogno di far emergere queste cose evitando che qualcuno ci lasci le penne fisicamente perché l'esposizione oggi in Calabria è talmente strutturato l'uno contro uno proprio per la trasversalità della politica quando si dice che una giunta va in crisi non perché l'opposizione l'ha messa in crisi ma perché i giornali il giornalista con una seguita c'è una sovraesposizione del singolo e della testata paurosa ancora ancora andare in tribunale e fare le cause qui il rischio è ben altro allora lì bisogna stare attenti e noi questa attenzione l'abbiamo chiesta come? cercando di buttare fuori dal recinto calabrese e devo dire devo dire la mia esperienza è positiva perché noi abbiamo avuto oggi il Corriere della Sera cita la nostra inchiesta sulla questione del 15% cioè come si fa a dire che fai uno sbarramento minimo al 15% cioè 15% gli ho spiegato che era due volte Craxi quando era al massimo del suo flugio eppure noi abbiamo una legge elettorale che sbarra al 15% però se fosse successo in Emilia oggi noi ci dobbiamo accontentare del fatto che lo scriva Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera ma è finita ma voi vi immaginate se la regione Emilia vara una legge elettorale con lo sbarramento al 15% ma non è uno sbarramento cioè è una cosa allora se capitasse in un altro allora noi al 26 marzo non abbiamo più una regione perché si è dimesso il presidente cioè 19 giorni prima del Piemonte e 12 giorni prima dell'Abruzzo in Abruzzo e Piemonte si è votato e c'è la nuova giunta noi ancora non sappiamo se e quando si voterà in Calabria allora i calabresi possono farcela da soli l'informazione calabrese può farcela da soli facciamo un altro esempio è morto Loris D'Ambrosio sono morti personaggi eminenti ma nessuno si è sognato di bloccare la camera dei deputati forse se muore il presidente della camera mentre è in seduta si blocca la camera dei deputati e si tiene lì il feretro in Calabria alla fine per rinviare il consiglio regionale due settimane fa su 18 sale che erano a disposizione 26.000 metri quadri di spazio si è fatta la camera ardente del segretario generale del consiglio regionale dentro la sala dell'udienza e si è rinviato il consiglio la lettera di rinvio del consiglio era firmata dal morto se fosse successo in un altro posto di questo paese che cosa sveniva giù è successo in Calabria siamo carne da macello siamo carne da cannone è chiaro che tutto diventa facile perché lo attribuiscono a regola a pollichiene che non si fanno i fatti loro che hanno una lobby io prima ho sentito leggere ho alzato la testa la lobby dei giornalisti comunisti io l'ho sentita era Matteo Messina ma in Calabria Luciano lo sa bene quante volte l'abbiamo sentita questa frase quindi da questo punto di vista cioè nessuno si può chiamare fuori no la cosa sono d'accordo con quello che dice Paolo e la cosa rivoltante è poi che l'accusa di lobbismo viene proprio dalle lobby vere perché diciamo il più grande problema diciamo proprio per dire non come il film di Johnny Stecchino dice il più grande problema il più grande problema dice sempre ne dice sempre uno però praticamente è proprio la massoneria ma questo perché perché negli ultimi diciamo la predominanza sono stati gli ultimi dieci anni che hanno fatto crescere delle nuove realtà editoriali mentre prima tu ci avevi un quotidiano la Rai e finiva lì no? l'informazione però la cosa appunto sconcertante io vedo anche nel mix diciamo di come viene offerta l'informazione riguardo quello che diceva Paolo è vero per esempio anche per quanto riguarda l'ASP di Cosenza cioè io ho assistito a questo fatto secondo me singolare che vabbè questo ex presidente insomma presidente di missionario in una diretta tra l'altro televisiva perfidia si è rifiutato proprio di a domanda specifica incalzante più volte di Antonella Grippo dice presidente dia la solidarietà a 66 giornalisti che si trovano stanno perdendo il lavoro cioè da lui si è rifiutato proprio di fare diciamo di esprimere la solidarietà quindi un fatto anche diciamo grave e serio perché in quel momento ancora c'era una sorta di accorduni perché l'accorduni l'ho chiamato così ispirato alle tentatuni perché si sapeva quanto odio ci fosse con Gentile però diciamo fin quando va bene sono quelle dinamiche che vengono fuori per interessi per questi lobbismi loro e il collega Paolo è stato fatto oggetto di una diciamo sorta di massacro conferenze stampe pseudo conferenze stampe con diciamo finti giornalisti che parlano diciamo quantificano e comunque screditano il lavoro e la persona diciamo e tutto quanto la stessa cosa l'avevo subita io in piena ora gate eccetera per cui tu sei l'amico di questo l'amico di quello gente io non avevo mai visto avevo ricevuto un'unica telefonata da Demetrio Nacca di Carlizzi del quale diciamo io ho sempre anche criticato peraltro e niente diciamo praticamente vieni dipinto così in maniera robistica però l'Irasco di Cosenza c'è questo ex presidente eccetera convoca una seduta diciamo si fa vedere in questa seduta del consiglio eccetera e fa fuori i scarpelli dopo la sconfitta elettorale per vendetta quindi diciamo quindi cos'è la Calabria cioè non è una terra dove il diritto esiste cioè nel senso la sanità è un servizio pubblico non si diciamo gestisce in base diciamo agli accorduni elettorali o di altro tipo e così la libertà di stampa non ha un colore di partito cioè io ho visto delle cose francamente incredibili giusto per non parlare soltanto a destra io voglio dire la Enza Bruno Bossio mi ha chiamato mafioso su un suo diciamo su un suo sì ma io dico diciamo la Enza Bruno Bossio ha avuto anche il cattivo gusto diciamo di presentarsi in commissione antimafia dopo tanta credine dimostratemi faccio presente piccolo inciso che Enza Bruno Bossio è intima amica diciamo della famiglia editrice che è l'avvocato diciamo dell'avvocato del liquidatore e anche l'avvocato di Adamo diciamo quindi mi sembrava anche per buon gusto non parlo diciamo di altro io non mi sarei comunque non sarei intervenuto per tutta la discussione in commissione antimafia sulla questione dell'Oragate lei ha cercato di far passare che tanto il giornale non chiudeva per le pressioni ma solo perché la proprietà non poteva ricapitalizzare ripeto questa era una frescaccia la Dorina Bianchi diciamo mi ha chiesto durante la commissione come mai il mio predecessore Sanzonetti non si era accorto e ho detto chiedetelo a lui però diciamo la Enza Bruno Bossio è subito intervenuta per dire che il mio predecessore aveva difeso accanitamente lui se n'era andato per difendere diciamo i lavoratori tutti questi processi dell'Ora della Calabria tutti questi processi messi insieme comportano il fatto che c'è una società una comunità io ho visto dalla nostra esperienza che questi 13.000 followers su Facebook o i 9.000 che abbiamo sul blog eccetera esprimono comunque un reale bisogno un bisogno di confronto tutti gli astenuti sono diciamo la parte che ha bisogno di dialogo ha bisogno di soluzione ha bisogno di stimolo eccetera è vero che noi dobbiamo far emergere anche una Calabria positiva io ho ripetuto spesso in questi incontri in questi convegni io sono un calabrese doc cioè i valori che ho cercato di difendere così come i miei colleghi quelli che mi sono rimasti diciamo vicini però insomma praticamente sono valori che ho ricevuto dai miei genitori e la Calabria è anche questo solo che non ha voce in capitolo allora sì parliamo della Calabria positiva delle belle realtà delle belle sfide delle belle diamo degli esempi positivi questo sì recuperiamo il nostro patrimonio ma non cadiamo perché scopelliti diciamo con anche diciamo la terremoto quando facevano queste belle manifestazioni insomma eccetera diciamo sempre che bisognava parlare della Calabria della Calabria essere positivi e non delle brutte notizie ma una regione che deve subire nel silenzio dei soprusi delle prepotenze delle male gestioni perché poi tutto questo ha creato una palude stagnante per noi tutti dunque siamo in chiusura perché poi adesso alle otto e mezza iniziamo l'altro incontro con il amatore lo chiedo come dire agli stranieri a Nino velocemente come come si può come si può aiutare ma non i giornalisti perché qua non è un problema di categoria come si può aiutare questa necessità di libertà di la libertà di stampa in tutta Italia è un problema naturalmente ma come si può aiutare la Calabria a rimettersi su standard a iniziare un percorso verso standard dove il lavoro del giornalista il diritto all'informazione dei cittadini possa essere garantito il più possibile è la domanda che faccio a Nino ad Alessandro e a Francesco io torno sul tema delle classi abbiamo otto minuti io 30 secondi ogni volta lo dico apposso il punto sta proprio lì la questione sono le classi dirigenti le classi dirigenti è la politica cioè è la politica che invece di accettare una situazione la raccolta del consenso così come avviene spesso in questa regione che magari cominci a chiedersi da dove vengono i voti chi li porta come sono stati presi casa per casa in che modo ed è uno è un problema i partiti nazionali non possono accettare che diventi sottosegretario oppure difenderlo così diciamo a occhi chiusi e questo è avvenuto purtroppo diverse volte anche con Scopelliti che ha delle responsabilità diciamo enormi sia nel governo di Reggio Calabria e poi nel governo della regione le grandi organizzazioni imprenditoriali devono porsi il problema di che cosa sta avvenendo qui di cosa avviene Umberto De Rose era presidente di Confindustria lo dico io che lavora il sole 24 ore è stato presidente di Confindustria quindi inutile che facciamo gli ipocriti è così bisogna porsi il problema la Calabria non può essere dimenticata se non si affronta il nodo delle classi dirigenti non si affronta il nodo della Calabria ma la Calabria è sempre stata un luogo da dove sono partite anche cose opache cose strane assurde e pazzesche per il nostro paese basta grazie Animo Amatore Francesco Al volo intanto investire finalmente nelle famose infrastrutture lui prima parlava della Salle del Noreggio Calabria ma il problema non è solo la Salle del Noreggio Calabria il problema è che tutto il resto della Calabria fuori dalla Calabria non lo conosce nessuno allora è inutile se chi sta fuori non sa assolutamente qual è il tipo di offerta il tipo di cose che si possono trovare qui dal punto di vista culturale e non solo è inutile ma quello tocca a noi esatto ma non solo a noi se non parte voglio dire dall'amministrazione cosa su cosa puntare e in che modo noi siamo quelli che lo comunichiamo ma noi non possiamo comunicare quello che non c'è Alessandro Baffi ma sai la difesa della libertà di stampa è come il coraggio di Donald Bondio e se uno non ce l'ha è difficile darselo e questo vale vale sempre da giovane cronista fino a che fa il direttore cioè a un certo punto uno deve dire beh se adesso dico no può darsi che fra un minuto cambio vita dico di no cioè altra parte il nostro mestiere è sempre così e tu lo sai perché abbiamo lavorato tanto insieme Gaetano le persone che poi noi abbiamo stimato nella professione alla fine erano quelle che avevano questa coscienza per cui la mattina che è venuta fuori la notizia che riguardava Luciano io ho detto chiamate Luciano tutte le volte che parliamo di sta cosa voglio che ci sia al telefono senza rompergli troppo le palle perché è naturale l'istinto ora certo noi abbiamo un problema di educazione ad esempio dei nostri giovani dei nostri ragazzi che è un problema serio perché c'era prima quel giudice bravissimo che lui ha intervistato che diceva una cosa sulla mafia e la corruzione che secondo me vale anche per noi cioè tu dici ah ma tu tu vuoi venderti no ma però insomma se però pigli sta telefonata questo è il problema nostro il problema nostro non è capisci fare la manifestazione per l'indipendenza il problema è tutti i giorni e in questo devo dire vediamo la debolezza della nostra classe dirigente di giornalisti nei confronti dei giovani perché il giovane diceva bene ma allora io sono precario da 12 anni non ho nessuna garanzia sono ipersfruttato quelli che sono dentro sono dipendenti non fanno niente no se faccio qualche compromesso e tu anche di necessità spesso per campani tant'è vero che a me è capitato sovente non faccio esempi che riguardano media perché sennò veramente mi scappocciano domattina però quante volte abbiamo visto finire girare la cosa che nessuno voleva fare al giovane precario che è l'anello più debo è vero o no e lì è colpa nostra non è sua colpa nostra perché lì noi dovremmo dire fermi tutti questa cosa non si fa e non la fa nessuno però è difficile è una lotta quotidiana è una lotta che facciamo tutti i giorni è un po' come per la per la Calabria è un proposito che facciamo però i convegni sono pieni di propositi poi tutti i giorni è un'altra vita devi combattere è una guerra tutti i giorni l'unica cosa che io vedo c'è una quella straordinaria cosa che tu sicuramente ami di David Foster Wallace che dice ai giovani che vogliono fare gli scrittori accorgiti partendo dalla battuta nella conferenza questa è l'acqua e che parte dalla barzelletta dei due giovani pesci che stanno nuotando arriva il pesce vecchio e dice ragazzi com'è l'acqua stamattina poi se ne va e i due giovani dicono un giovane dice all'altro ma che cos'è l'acqua perché a noi cosa capita che noi stiamo dentro la realtà e non ci rendiamo più conto di che caspita è allora amare questo paese vuol dire amare la Calabria amare i suoi difetti ma amarla al punto di accorgersi ancora di quello che succede di non abituarsi al tran tran che non ci sono le infrastrutture che il presidente della Confindustria è quello lì ex meno male eccetera eccetera perché questo è il punto che ci viene chiesto tutti i giorni è una sfida bisogna combattere grazie grazie a tutti grazie a Paolo Pollichini a Francesco Daiala a Nino Amatore a Luciano Regolo che incoraggiamo ancora con un applauso ad Alessandro che tra poco prende un volo e riparte per la diretta di domani mattina e adesso abbiamo un appuntamento in piazzetta con rivoluzionari in terra di mafia grazie a tutti se sei un amico ti stengo in mano se chiedi un aiuto ti tengo la mano e prendi la mano e dammi la mano e prendi la mano e dammi la mano il padre e il bambino lo tiene per mano c'è tutto il destino e non parlo di mano le mani le mani che sanno parlare che sanno guarire e che sanno pregare le mani legate le mani fierite le mani le mani e che sanno pregare non parlo di mano